Ragazzoni, benvenuti in questo no... Veloce, veloce sta inizialmente la partita Cazzo di macchinari, non lo so, vabbè, neanche il tempo La domanda di oggi ce la fa il signor Lux, Lux, come si dice, non lo so Perché hai scelto come me la Esper tra tante macchine Potrebbe esemplare una domanda di merda Infatti è una domanda di merda, però perché voglio rispondere a questa domanda? Perché forse è una cosa che non ho mai detto Del motivo per cui io non gioco con le macchine regolari Tipo Fennec o Optane, quelli che sono tutti quanti pro player Ma uso sempre macchine tipo Pontiac, Esper Anzi, sono in vista con la Pontiac da tantissimo Quindi ormai Pontiac main Per quale motivo? Ah, potrebbe sembrare una cazzata Potrebbe sembrare un modo, ah, io voglio essere diverso No, io con la Fennec non mi ci trovo Se vedete me giocare con la Fennec È perché sto giocando tipo di merda con la Pontiac Sto disperato, ho perso MMR E gioco con la Fennec Infatti, se nei best of vedete che faccio belle clip Non è perché sono più forte con la Fennec È perché quando uso la Fennec sono sceso di rank E quindi mi è più facile giocare Perché la gente mi lascia più spazio a rank bassi Cioè è normale Immagina fare le clip per dire a 2100 Grande bel tiro del mio avversario Immagina fare le clip a 2100 MMR o a 1.900 È normale che a 1.900 mi escono più facile E quindi sembro più forte Ma di base io uso macchine hitbox hybrid Per il semplice fatto che mi trovo proprio meglio Non faccio apposta Però in che modo mi trovo meglio? Cioè, qual è la differenza? A parte che mi danno una sensazione di prendere proprio più forte E questa cosa per me non è solo una cosa psicologica Perché su me è così e basta Se no non si spiega perché veramente se uso la Fennec scendo E non sto scherzando Specialmente in 1v1 Ci sono tocchi che con le hitbox hybrid So fare e con le hitbox hybrid no Però il problema è che sono uno dei pochi Perché se tutti usano la Fennec Nonostante abbia provato altro Effettivamente sono come con la Fennec Quindi è una cosa mia I tocchi sono la prima cosa proprio super Ma riguarda tutti i tipi di tocchi Sia a terra che in aria La velocità con cui la palla parte Dopo aver toccato la palla con la Fennec Per me è proprio un'altra cosa rispetto alla Fennec O a qualsiasi altra macchina E questa cosa non me la spiego proprio Perché in turno dovrebbe essere uguale Proprio sarà forse un film mio? Non ne ho idea Ma veramente Proprio il motivo per cui Sono mille volte più forte con la Fennec Rispetto alla Fennec È la questione di pesa Avendo un hitbox più lunga Mi trovo mille volte meglio a parare Perché molto spesso Ci faccio caso Quando gioco con la Fennec E determinate palle Che penso di parare Non le prendo Perché la macchina È molto più corta Mentre con la Ponte La prendo semplicemente Perché la macchina è più lunga Quindi in difesa Sono molto molto più forte Olè E non capisco come facciano I pro player invece A stare forti con la Fennec Io non li immagino A giocare con la Ponte Perché veramente Vi giuro In difesa Le macchine hitbox Sono assurde Perché non finiscono mai Bella parata Non finiscono mai La loro hitbox È tipo infinita E io ci faccio caso Che veramente Con la Pontiac Delle palle Che io non pensavo Di prendere Ci arrivo È assurdo Ma pure con la Esper Stessa cosa Quindi è semplicemente La questione di film Io non lo faccio apposta A fare il diverso Mi trovo veramente bene Con Pontiac Cioè alla fine Quando mi trovo male Con la Pontiac Metto la Esper Se mi trovo male Con la Esper Metto la Fennec Ma di base Non serve a un cazzo Perché cambiare macchine Non giochi di merda Non serve a niente Perché non tu giocherai Sempre più di merda Però è per disperazione Uno lo fa Come quando cambi le impostazioni Dici no Mi trovo male Con questa sensibilità Che magari la usi da un anno Però una sera Giochi male E pensi a colpa della Senza Ma in realtà Sei tu che quella sera Fai schifo a prescindere Ci stanno Le giornate nuove Vanno soltanto Normalizzate E gg Cioè Stai giocando di merda E basta 3 a 2 Ci facciamo Un grande grande kickoff Molto lento A destra Perfetto Questo ha un bel ceiling Secondo me Wow Wow Fake sotto Non ci credo ragazzi Mi ha aperto Spero non vada prima di me Dove sei? Cazzo fa Mi è pure bampato Non mi vincerai mai sto 50 Non lo vincerai mai Che culo Che culo Rotto Ma guarda Con che preflip L'ha presa Guarda Dai Mentre stava girando Per sbaglio Con due Comunque sto incontrando Sono gente forte Un uvino Ma che cazzo Non è una partita facile È fuori? Sì è fuori Vado con calma Tanto non ho fretta Ti prego Non prendere il bus Che problema hai? Sono mai tanti Mi hai di problemi Porca troia Ragazzi Era proprio scontatissimo Che faceste questo Infatti Proprio me la sono giocata Chill Tutte e due le cose Saltato per Per levare il bump E saltato per anticiparlo Magari fossero tutti così Cazzo Ci facciamo un grande kickoff Alla mia sinistra Guarda Sbagliato Sbagliato L'importante è prendere il bus A 100 E dare un bel silinghino Questo mi anticipa Bello sto 50 Dunk come cazzo si chiama Fake 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 Allora Il bus Ora ce l'ho Per fortuna Posso andare sulla palla Posso bumpare Guarda Posso Buone 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 Mannaggia Come si è girato in aria Madonna Questa è una bestia Ho guardato Sbagliato Perfetto Secondo me Posso prendere una con calma E tirare Fake Fake Ah Quattro pari Posso dire L'ho letteralmente distrutto Ho rischiato un botto Rischiato un botto Però lo so io Quindi lo posso fare Quattro pari Lo sto per prendere il culo In una maniera Mastodontica Ce l'ho Fake 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 Ragazzi Bisogna fare un piccolo Flicchettino Andiamo a prendere il bus A 100 Bravo Ce l'hai? Fuori 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 Posso andare ad anticipare Credo Si fake fake Ma do come guoto ragazzi Dovrei che forse Posso fare un piccolo Sbeam sotto Bam Non c'ho boost ragazzi Lo devo bumpare Vabbè ragazzi Sono comunque Sono veramente Un rincoglionito Cioè mi metto a rischiare Ste cose come un deficiente Vabbè 5 a 4 Manca un minuto Si può fare Prossimo game Per dimostrare la differenza Per dimostrare la differenza Del mio playstyle E tutto Vi faccio vedere come partire Con la Pontiac Seriamente Giocata seriamente Vi faccio vedere come Come cazzo cambia Perché è veramente assurdo Quanto mi possa trovare Nonostante io sia comunque bravo Con tutte le macchine Però la differenza è assurda Con la Pontiac Mamma mia Ho un feeling che Veramente Assurdo Ce l'ho Vieni Ah Kaizo Non mi romperi i coglioni Fuori 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 Ah è gol 3-4 Peccato Infatti ridemelo voi ragazzi Se preferite che più spesso Giovi con la Pontiac Vi faccio questa cosa Che macchina random Perché per me è uguale Anzi in realtà Se mi ridete Giovi con la Pontiac È meglio Possiamo magari Faccio insomma Metà video con la Pontiac Metà video macchine random Che mi piace di più Giovi con la Pontiac Mi trovo troppo bene Non mi dica la paro Perché impazzisco Ia ma che bucio di culo C'è la miseria Devo bampà Devo pinciare Sì me la pincio nel chill Me la passi Nooo Non l'ho preso Mi sono subito Bruciato un'occasione Incredibile Brutto Masti Ha fatto palese L'ho detto L'alzata era una merda Si vedeva subito Che sarebbe andata malissimo Ok Come l'ha parata Ma stai scherzando Ragazzi ma questo è Un animale Porca troia Undici secondi Devo fare una giocata decisiva Ora Nooo L'ho provata La giocata Se ne è accorto Della capiglia Io ho proprio Cioè io ho regalato tutto Praticamente Oddio se ce la faccio Impazzisco Giustamente pensavo Pusciarsi come una persona normale Ma mi devo ricordare Prima è normale Ah ok Sei pirate Te lo secondi God onestamente Allora Ci facciamo Un grande grande Chico fino Alla mia destra Giustamente Non andrà benissimo Ma neanche malissimo Vado a prendere Busta centro Ragazzi Ragazzi Il rimbalzo è perfetto per me Fidatevi Perché è proprio centrale Ma perché ho fatto questa cosa Ma che problema ho ragazzi Cioè ma sono veramente Acustico allora Ma veramente Grazie per il regalo Kaizo Mi ha proprio regalato Questa situazione Proprio OP Kaizo se mi pusci Sei proprio un figlio Di una gran troia Sappio Va a tenere dietro Non prendere la palla Lasciami la palla Lascia 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 Mi fare un bel airbump Minchia raga Questo qui A me sta piangendo Ci credo che sei Che sei incazzato L'ha buttata Sta partita Porca troia Vapo Ci mettiamo la ponte Che faccio la differenza Siamo troppo forti La ponte Affino direttamente in game Speriamo una bella Bella lobby Perfetto Vediamo questa maniacale Differenza Oh è quello del video scorso Godo Con la ponte Con lo spacco Mi ricordo Con questo Ce l'ho perso Se non ricordo male Vabbè Dai raga Andiamo a vincere Giustamente Il kickoff perso Ok raga Non bene Non bene Non bene Non bene Se l'ha fatta apposta Mi calo i pantaloni Me lo faccio mettere dietro Ma non credo mai Ma no scherzi In realtà si Se l'abbiamo fatta apposta A prenderli contro balzo È un pazzo No no Ok l'ha fatta apposta Ora mi devo calare i pantaloni Veramente È stato bravo Destra No 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 Non ho booster Non ho booster Non ho booster Godo Allora Andiamo a far vedere un po' Chi è il king dei flick Facciamo una finta Vieni vieni Pusha pusha Vieni vieni Ti faccio un air bump ora Fake sotto Ah Una a uno È incredibile ragazzi Il controllo che ho con la Pontiac Mamma che godura raga Non mi fate più sole Ma che random Per favore È troppo bella la Pontiac Kikoffino A sinistra Allora Ce l'abbiamo Ma ne ha più del bus a 100 Facciamoci un piccolo Eh no Un piccolo nido Perché questa ha rotto Questa ha rotto le palle È schillato in culo Ha rotto le palle Basta Mamma mia È troppo forte In aria Che fastidio Facciamo un grande kickoff lento In questo caso Dove la buttiamo Dove la buttiamo Ok Andiamo a prendere il bus a 100 Boh raga Ma avete visto che questo mi pare Allora Io vorrei solamente dire Chi ha capito cosa ha fatto Penso si è impressionato come me Chi sta tipo a platino Ha capito un cazzo Ma ha fatto una cosa che È tipo impossibile Che se ci provo io Per 10 ore consecutive Non ci riesco Io non so questo qui Che cazzo stia combinando In aria è una bestia Ok vado dietro Per andare al bus a 100 A sinistra No Dov'è? Ok l'ha preso ora L'ha preso ora Via 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 Faccio un piccolo fake Fake sotto ancora Fake sotto Niente non ha più funzionato Il fake sotto Meno male che non sono andato God Ho anticipato Palla a me Palla a me Lascia lascia Allora Cerco di buttarla Semplicemente alta Così la faccio rimbalzare bene Per me Fake sotto ancora Niente fake sotto Questo qua non funziona Incredibile Ha rotto le palle Uscia proprio dritto per dritto Babo 3 a 2 Ma affatto Non cazzo Ah questo è quello Non è schifo Sì sicuro il primo uguale Ci facciamo Un grande Grande Kick offino La buttiamo A sinistra La faccio finire Andare a prendere Il boost a 100 Ah 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 Godo Godo Ora gioco Andarmi a fottere il boost Palese Palese 3 a 3 Mamma come godo Ci facciamo Un grande kick off Molto molto Veloce La butto A sinistra Fake flick Secondo me No il flick Lo devo fare Questo Ugo è parato Non era facile Questo è Era da una merda Giusto per farlo Rimanere dentro lì Dove prendere il boost Senza problemi Credo che sia facile Per me ancora Sì questa qua ragazzo Per me è proprio easy Secondo me Sì a posto La siamo gestita bene Abbiamo fatto Un bel web per flip Ora per ricontrollare Il pallone Credo di poter fare Un piccolo reset Piccolo piccolo Maanmış Ora questo è proprio Un gol da best Beh, questo off Comunque Dai editor Piastocol Mettiamo il prossimo Best off Guarda che spettacolo Altro che i suoi reset Brutti P соврем Mi facciamo un grande Kick off Mamma mia Resettato in bocca Proprio Destra Devo andare Io Sì Che sai che ti dico Mi faccio un piccolo Fake No, che schifo, che schifo, va un po', tanto questo salterà male Sei proprio un figlio di... Dai, dai, dai Che bastardo Busta 100 Facciami capire un po' chi comanda questo Dove vai? Forse il mio tartolo ha confuso Ma questo è proprio un deficiente Ma come fai a confonderti con il... Boh, ragazzi, non lo so Cosa voleva fare? Ci facciamo un grande fake al kickoff Vediamo se funziona Non è un problema Ma con 33 di busto, ora 45 Lui a 100, ma su me riusciamo comunque a segnare in contropiede, palese No, aspetta, questo è schillato, mi ero dimenticato Ti prego, passamela dietro Grazie Ne ho approfittato subito, subito Qualche di questo fake? Pam! Tiro di merda Il busto lo devo prendere io, vado io, vado io, vado io Pam! Ragazzi, c'è una differenza abissale con la Pontiac, ragazzi Cioè, è inutile prenderci in giro Con la Pontiac sono proprio un'altra cosa Mi trovo proprio meglio, i tocchi mi escono clean Proprio un'altra situazione Vate il prossimo duro, faccio full Pontiac, ragazzi Mi diverto troppo a questa macchina C'è invece un piccolo airbump questo Eh, lo sapevo E' a 4, ho fatto un bel airbump Questo è bravo proprio Ci facciamo un grande, grande kickoffino Dove la buttiamo? Dove la buttiamo? A destra Giustamente Ci siamo presi Sicuramente una palla bruttissima Questa non la parerò mai Ero convintissimo che senza busto l'avevo presa Vuol risparmere busto La ripresa successiva Vorrei vedere soltanto se ha trapassato la parte davanti Che la Pontiac, effettivamente, la parte davanti non ce l'ha Cioè, non c'è l'hitbox lì Non lo so Cioè, tipo, questa parte davanti non esiste alla macchina Veramente Cioè, solamente a livello visivo Allora, non segno Quindi aspetto È troppo difficile Da lì, l'angolare è impossibile Ho preferito evitare Perché già stiamo in vantaggio di un solo goal Mi metto pure a buttare sti palloni Ma no, prendiamo goal lo stesso Noi preoccupiamo Prendiamo goal uguale Vedi di farti I cazzi tui Allora Devo fare un piccolo fake flick E poi lo uso alla fine Purtroppo I fake flick del boss Sono imparabili 7 a 5 E ci facciamo Un grande kickoffone Molto, molto veloce A sinistra Non ho fretta, ragazzi Sto vincendo due gol di scarto Easy Allora Continuiamo? Continuiamo? No, non continuiamo Ho sbagliato tutto sbagliato Che Cristo Non ci credo Secondo me ce l'ho easy Bam Questo mi bampa No? Non mi viene a dare fastidio? Ora viene a pushare sicuro Vabbè Sta solo di quello che fa Quello che controllo È un po' clean Quando vai in aria È proprio clean 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 E' un po' clean Non c'è la finta Questo fa Mi aspettavo un flick Sinceramente Dovevo fare uno squishy save Così carino Invece sono stato blastato Facciamo un kickoff Lentrante lo sfondo A sinistra Sfondato a sinistra Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Dovevo fare un piccolo fake A destra Me ne vado, me ne vado Me ne vado Fake, fake Allora Crediamo Credo che questo Mi faccia un bel resettino in bocca Fuori fuori Ora la cosa buona È che Il playstyle di queste persone qui È sempre un po' Controproducente Vi spiego perché Queste persone Tipo questo Tipo Dr.Q Quelli che giocano così Tipo Dark Sono relativamente semplici Da battere Perché? Perché Per quanto puoi essere forte A fare quelle cose lì Non lo puoi sbagli Quindi ok Ti va bene una volta Segni Ti va bene due volte Segni Ma comunque a terra soffri Perché se stai forte solo a fare questo A terra soffri E vedi Una volta segni Due volte segni Alla terza Quarta volta Sbagli Prendi quello in contropiede Quindi comunque questo playstyle A lungo termine È dannoso Quanta bene per la partita Due Che riesce a battere qualcuno Di fortissimo Ma comunque questo playstyle Fa proprio cagare Ci vediamo al prossimo game Con una bella Pontiac Un bacione Iscriviti al canale Vi voglio bene Forza bene Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Andiamo subito al lato Facciamoci un piccolo fake L'alziamo ancora Mamma Ragazzi Vogliamo parlare Della rapidità Di esecuzione Di questo tiro Ma con che rapidità Cioè questo proprio E Secondo WebDash Più tiro Mamma mia Che rapidità Con questa macchina O frutissima O frutissima Grazie a tutti Grazie a tutti